Ciao a tutti, io sono Zoe e benvenuti sul mio canale! Oggi mi trovo nel mio giardino, vi voglio far vedere le mie tortole che stanno facendo il nido. Ecco, guardate, qui ce n'è già una. Comunque abbiamo un nido stupendo, vediamo anche che portano tutto il cibo, ci piace un sacco e eravamo rimasti sorpresi. Adesso io so tutto sulle tortore perché ho scoperto un sacco di cose io, però... Adesso non lo so, però qui, allora, vediamo se riesco ad inquadrarvela. Eh, non la trovo! Ecco, qui! Questo qui al nido e sopra c'è la tortora. E niente, vi volevo far vedere le mie tortore perché mi piacciono un sacco. Oh, guardate qui, ci hanno lasciato dei lametti. Ragazzi, veramente ve lo dico, ancora non siamo rimasti a bocca aperta. Non abbiamo mai avuto degli animali, mai, mai. Ragazzi, adesso li daremo da mangiare alle nostre tortore. Qui un po' me li mangerò io, tanto è ora di merendo. Prendiamone uno e glielo andiamo a spezzettare. E poi vediamo se arrivano a un certo punto. Non so, spezzettate. Mi fa male il braccio, aspettate. È un po' difficile fare le cose con una mano. Scivolo. Ragazzi, adesso li daremo da mangiare alle nostre tortore. Più sotto le mie scarpe. Niente, aspettiamo un po' cosa ci arriva. Cosa arriva. E vediamo. Fratellino! Ciao! Aspettate che c'è il mio ladro che mi guarda in modo strano. Ci sono un sacco di api. È arrivata. Questa, ragazzi, è la nostra tortora. È il maschio, ovviamente. Poi arriverà anche la femmina. Il maschio sta un po' da guardia, poi, ai piccolini, perché, sì, ci siamo trovati in voce per terra. Ragazzi, mentre stavamo montando il video, abbiamo visto per la prima volta i cuccioli di tortora. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete tanti like e iscrivetevi al canale. Ciao! Ragazzi, c'è un piccolo cucciolino. Povero, era anche impegnato lì nella rete e l'abbiamo liberato. Grazie.